Dicevamo in serie di commento che in Italia solo il Napoli come il Pescara in trasferta, sei vittorie e un pareggio, cammino importantissimo, forse con un'ingiustificata sofferenza nei minuti finali. Sì, ingiustificata sofferenza perché secondo me qualcuno che è entrato poteva entrare un po' meglio. Non faccio i nomi? No, non faccio i nomi, però secondo me siamo tutti importanti in questa squadra. Se vuole arrivare a qualche traguardo bisogna capire che quelli che giocano e quelli che non giocano devono essere ugualmente importanti e quando giocano devono andare in massimo perché se no così non andiamo a nessuna parte, perché non si può rischiare di lasciare due punti qui dopo aver condotto la partita in grande tranquillità senza correre nessun rischio. Soprattutto nel primo tempo però il Pescara non è stato il solito Pescara, Vergani poteva raddoppiare però la Turris fraseggiava molto bene. La Turris ha giocato una buona partita, la davanti è una squadra molto forte, lo sapevamo, sapevamo che mancava anche, mi sembra se non vado errato, Santaniello che si è fatto nel riscaldamento. Sono giocatori veloci, rapidi, tecnicamente molto bravi per cui noi lo sapevamo che c'era da soffrire. Però secondo me la squadra per 60-70 minuti ha saputo soffrire e colpire nel momento giusto quindi non abbiamo rischiato assolutamente nulla. Cosa ha fatto Plizzari nel riscaldamento? No, non ha fatto nulla nel riscaldamento, purtroppo Plizzari ha avuto un problema nell'albergo perché ha battuto un piede, se non vado errato, sul legno. Però l'ha visto, ha provato? Ha provato perché voleva giocare, però probabilmente c'era il piede un po' gonfio, non ce l'ha fatto. Niente di grave? No, assolutamente no. Presidente, è impossibile adesso non parlare del Catanzaro perché il Pescara è al secondo posto, tre punti di distacco dall'undici di Vivarini che tra l'altro il Catanzaro in un'ora ha polverizzato oltre 800 tagliandi. A questo punto è la partita che potrebbe valere la stagione? No, la stagione è ancora lunghissima. C'è ancora sei partite, cinque partite del giro dell'andata, più quella dell'Avellino, la prima di ritorno e poi c'è tutto il giro di ritorno, quindi non è sicuramente la partita del campionato, è una partita importante sicuramente, la giochiamo in casa, quindi sicuramente faremo il nostro meglio, però non è sicuramente la partita del campionato. Vuole mandare un appello al pubblico di Fede Biancazzurra? Io credo che domenica come mai ci serve l'apporto del pubblico, anche stasera è stato numeroso qui, nonostante una giornata feriale sono venuti in tanti e credo che domenica non faranno mancare il loro apporto alla squadra perché ne ha veramente bisogno. Le chiedo un'ultima cosa Presidente, in settimana sono uscite le parole del tecnico Zeman su quello che è stato il presunto motivo dell'esonero del 2018, lei sapeva delle condizioni del figlio e lei è esonerato lo stesso? Ha scritto le mie bugie Zeman, probabilmente, perché Zeman sa benissimo il motivo per il quale è stato esonerato, in quel giorno basta andarla a rivedere, c'erano le votazioni, lui non è voluto tornare, si è portato dietro tutto lo staff perché argomentando sul fatto che deve andare a votare, io avevo convocato una riunione l'indomani e poi partivano per votare, visto che stanno a Roma e ci mettevano due ore a tornare a casa, le avrei fatti anche accompagnare. Mi dispiace perché ha detto una grossa fesseria e lui sa benissimo che io ad inizio campionato, quando il figlio si è ammalato, gli ho detto gli ho dato la massima disponibilità a fare tutto quello che voleva, per cui ha scritto una grande fesseria, una grande bugia, ma d'altronde Zeman purtroppo è così, vinco io, perdete voi. Una domanda da studio per il Presidente Sebastiani? Sì, Fabio Ferraresi. Presidente, io credo che all'inizio dell'anno arrivare all'asconto diretto a meno tre, nessuno se lo poteva aspettare, quindi penso che tu sia contento del cammino di questo nuovo gruppo, di questo mister, di questa squadra e speriamo che domenica, come hai detto bene, il pubblico si faccia sentire perché potrebbe essere un uomo in più per questa partita. Sì, sì, ma io sono stracontento, non contento, perché veramente la squadra ha fatto tantissimo, l'allenatore è stato bravissimo, ma tutti quanti hanno lavorato bene, compreso i ragazzi che vanno in campo, però è chiaro che domenica c'è una partita importante, nessuno si aspettava nemmeno di questo cammino del Catanzaro, così prepotente, perché poi alla fine loro stanno andando veramente molto molto forte, noi stiamo tenendo testa, ma il campionato non si chiude sicuramente domenica, quindi dobbiamo pensare a fare bene e poi c'è tutto il girone di ritorno per cercare nel caso di recuperare e c'è anche il mercato di gennaio, se serve per correggere qualcosa. Messi che arriverà? Fatta? Noi abbiamo fatto, lo sapete, lo sapete più voi che io, abbiamo fatto la nostra offerta, se la società accetta, il ragazzo ha dato disponibilità, quindi lo prenderemo. È vero che la società ha dato disponibilità anche per rafforzare in altri ruoli qualora ce ne fosse bisogno la squadra? È chiaro che noi siamo vigili sul mercato, il direttore sta lavorando veramente per cercare di trovare se c'è bisogno qualche rinforzo che possa dare una mano a questa squadra che ha fatto già tanto bene, quindi non bisogna sminuire il lavoro fatto fin qui che è stato fatto un lavoro straordinario, se c'è la possibilità di rafforzarsi io credo che anche i giocatori debbano essere contenti se arrivasse qualcuno che può dare una mano a raggiungere un obiettivo importante.